Benvenuti su questo canale dedicato a chi vuole restare informato su temi cruciali come giornalismo, attualità, politica e malaffare. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dibattito civile dove commentiamo e reagiamo agli eventi più rilevanti del momento. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Nella puntata di oggi vediamo un video con Pier Camillo Davigo. È un errore credere che i processi dipendano da chi li fa. I processi certo in parte dipendono anche da chi li fa, ma soprattutto più che per quello che possono fare, per quello che possono non fare, che è un'altra cosa. Ma essenzialmente dipendono dall'atteggiamento dei soggetti che vi partecipano. Se gli imputati decidono di collaborare e si acquisiscono prove per molti reati, per molte persone, se invece stanno zitti o dicono io non so niente, sono arrivato da Marte ieri, diventa difficile che le indagini facciano passi avanti. Se i testimoni dicono la verità, si va avanti nella scoperta dei fatti. Se i testimoni sono reticenti o mentono, non si va da nessuna parte. Allora, mentre i magistrati dovrebbero fare il loro dovere sempre, così come le forze di polizia, le persone che occasionalmente entrano nei processi sono persone che sentono l'aria che tira, per lo più. Se l'aria che tira è che quelli di cui devi raccontare le malefatte probabilmente non saranno più tanto pericolosi o potenti quanto sono oggi, magari può essere che tra la minaccia di arresto per falsa testimonianza e il dire la verità, decidano di dire la verità. Se invece pensano che ci saranno ancora, che prima o poi i magistrati passeranno, ma i politici no, dici io mi prendo la condanna, ma mi conviene stare zitto. Quindi questo è il primo dato. La seconda questione è che quando si caratterizza l'effetto domino, ogni tanto accapita che c'è l'effetto domino. Chiarisco cos'è l'effetto domino, quando da una vicenda se ne scopre un'altra, poi un'altra ancora. La prima volta in cui io mi trovai davanti all'effetto domino ero un giovanissimo giudice istruttore al tribunale di Vigevano. Ora fortunatamente soppresso, perché i tribunali piccoli sono una vera iattura. Eravamo sei magistrati, compreso il Presidente, allora c'era anche l'apertura, quindi erano due uffici separati. E la mia settimana era organizzata così. Lunedì sezione specializzata agraria, martedì giudice istruttore civile, mercoledì giudice istruttore penale, giovedì dibattimento penale nei processi che non avevo istruito io, quindi quelli che venivano da Sommaria o che avevo istruito l'altro giudice istruttore. A venerdì alterni applicato come pretore oppure appelli in materia di lavoro e prevenza sociale. Quando mi chiedevano che mestiere fai, dicevo il giudice è condotto. Perché ovviamente dovevo occuparmi di tutto. Tutti i ruoli in una settimana di lavoro. Tutti i ruoli. Certo. E Vigevano immagino che fosse veramente tra i più piccoli d'Italia. Sì, non il più piccolo, ma uno dei più piccoli, certamente. E tra l'altro poi ci sono le incompatibilità, per cui se uno ha fatto una cosa non può farne un'altra. Certo. Quindi se c'è un giudice malato bisogna farne applicare uno da fuori perché non si riesce più a fare il collegio, eccetera. Quando hanno chiuso i tribunali piccoli, la gente ha protestato. Adesso vogliono addirittura riaprirne alcuni perché veramente non ragionano. Io uso sempre questa metafora per far capire che è una sciocchezza tenere i tribunali piccoli. Dico, ma se lei deve farsi operare, preferisce andare al policlinico o preferisce andare in un ospedale dove ci sono sei medici? Uno dei quali le dirà. Io sono l'oculista, ma siccome oggi il chirurgo non ce l'opero io, lei come si sentirà quando l'oculista le dirà così? Ecco, ed è esattamente quello che accade nei piccoli tribunali. Certo. C'è il collega che si occupa di fallimenti che quel giorno deve fare il processo penale, magari per una cosa molto grave, dove bisogna dare trent'anni di carcere. Quindi, come si sente? Se uno è un oculista, è difficile farlo, certo. Allora, qual era l'effetto domino che mi insegnò però molte cose? Tre funzionari dell'ufficio IVA di Pavia andarono a fare una verifica a un orefice di Mortara, una cittadina di 10.000 abitanti, nel circondario di Vigevano. e chiesero all'orefice 5 milioni di lire per non fare una verifica dura e un orologio d'oro per il loro capo ufficio. Ora, i gioialieri e gli orefici in genere sono evasori fiscali, perché tutti gli anni dichiarano redditi inferiori a quelli dei loro dipendenti. Se fossero veri questi redditi non si comprende perché non vendano il negozio ai loro dipendenti, così loro diventano dipendenti del loro dipendente e guadagnano di più. Evidentemente sono evasori fiscali. Ne trovarono uno onesto, che invece da lì i soldi andò dai carabinieri. Raccontò l'accaduto, i carabinieri lo portarono dal procuratore della Repubblica, il quale disse lei ci dia i numeri di serie delle banconote, domani ci saranno i carabinieri appostati nei pressi del suo negozio, poi gli mise anche un brigadiere in abito borghese nel retrobottega con un registratore per sentire il colloquio e disse quando questi usciranno i carabinieri interverranno. Detto fatto, il giorno dopo questi vengono trovati con i soldi di cui i carabinieri avevano l'elenco dei numeri di serie e li arrestano in flagranza di concussione. Certo. Reato punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Qui devo fare una digressione che non c'entra niente ma merita di essere fatta. Contrariamente a quel che pensa la gente normale, quando un reato aumenta di frequenza, le pene non aumentano, diminuiscono, perché i giudici si abitano a vederle e non gli sembra più una cosa brutta. Certo, certo. Ma all'epoca un arresto in flagranza di concussione di tre funzionari dell'ufficio IVA era una rara avis, nessuno aveva mai visto una roba di questo genere. Allora il procuratore della Repubblica, Antonio Rapenna, magistrato sagace, concluso la carriera come procuratore generale di Catanzaro, notò un particolare, notò che questi tre facevano servizio insieme per la prima volta, perché normalmente ognuno di loro andava con altri due a fare le verifiche, ma siccome era fine luglio ed erano già cominciate le vacanze, avevano preso i tre rimasti da tre pattuglie e le avevano messe insieme. E allora disse, ma se voi la prima volta che uscite insieme fate una cosa di questo genere, è perché la fate sempre, perché sennò ognuno dovrebbe avere paura degli altri due. Ecco l'effetto domino che lei diceva. E infatti, dice quindi cerchiamo di farla corta, mi dite tutte quelle che avete combinato, sennò domani mattina andate a giudizio con rito direttissimo e probabilmente domani pomeriggio avrete già una condanna a 12 anni di reclusione. Loro? Loro si fanno quattro conti e raccontano. Sì, dice, l'abbiamo fatto tante altre volte e raccontando chiamano in corretta gli altri con cui andavano. Certo, certo. Per cui i tre arrestati diventano nove, i 9 e 27. E di lì? Alla fine misero il cartello chiuso per arresti sull'ufficio IVA di Pavia perché erano stati arrestati 29 su 30 impiegati che componevano l'ufficio. Per inciso, il trentesimo non è che non c'entrasse proprio niente. Era raggiunto da una chiamata in corretta non riscontrata e quindi non fu raggiunto da... Questo video è una rivisitazione migliorata e restaurata allo scopo di esercitare una nostra recensione.